Ti stai annoiando, lo so. Vorresti essere a giocare a Dungeons & Dragons quinta edizione con i tuoi amici, ma aspetta un attimo. Tu non ne ami amici, perché sei uno stronzo. E quindi, magari, stai cercando un posto in cui giocare, un posto in cui accettino anche gli stronzi come te. E magari vorresti anche che fosse un bel posto in cui divertirsi, in cui non sia pieno di power player di merda. E magari ancora vorresti che fosse figo. E vorresti che non ci fossero le solite teste di cazzo. E vorresti che ci fosse anche gente che conosce il regolamento, che lo rispetta e che non rompe i coglioni a tutti. Vuoi un mondo sandbox, da giocare in modalità Westmarches? Noi ce l'abbiamo. Vuoi un'ambientazione di spessore, curata nei minimi dettagli? Noi ce l'abbiamo. Vuoi un mondo in cui il background del tuo personaggio e i suoi futuri sviluppi avranno un impatto determinante? Noi ce l'abbiamo. La tua cucina a gas fa fumo? Noi togliamo il fumo dalla tua cucina a gas. E se tutte queste motivazioni non sono sufficienti per te, allora mi sa che i tuoi amici hanno ragione. E sei proprio uno stronzo. Come dici? Vuoi entrare nel nostro mondo? Ma se non sai nemmeno come si chiama, adesso te lo dico. Il regno di Wagam. E ci entrerai anche tu, maledetto strozzo. Te lo posso garantire. Sei un giocatore esperto? E allora faccelo vedere. E il fatto che sei un giocatore esperto? Sei un giocatore nuovo? Nessun problema. Ti insegneremo noi a giocare. Posi l'animo e buono a nulla. Non hai escusi. E adesso, unisciti subito al nostro canale Discord. Giocheremo sul Roll20. E ti costringeremo a divertirti contro la tua volontà. Chi sono io a parlare così? E che cazzo te ne fotte a te? Potrei essere chiunque. Potrei essere capitano delle guardie. Potrei essere un nano. O potrei essere chi cazzo vuoi due. Insomma, è un gioco di ruolo. E siamo qua per divertirci. Partecipa anche tu. Maledetta testa di cazzo.